Grazie mille per l'invito in uno spazio a cui sono legato molto affettivamente, lo dichiaro subito così spiego anche perché magari l'emozione potrebbe tradirmi. In realtà Dynamite non possiamo assolutamente considerarlo un romanzo, mai sarebbe stato presentato come tale all'epoca, forse oggi potremmo considerarlo un romanzo più di quanto lo fosse considerato negli anni 30 degli Stati Uniti. Spiego perché, il motivo della confusione è dovuto un po' dal personaggio che lo scrisse prima di tutto e dal particolare periodo storico in cui venne scritto. Dynamite esce per la prima volta negli Stati Uniti nel 1931, la traduzione che voi leggerete in realtà si riferisce alla seconda edizione che è del 1934, quindi tre anni dopo Louis Edemic rivede il testo che aveva scritto, lo rivede con la testa non più dell'esordiente, era il suo primo libro, lo rivede con la testa dell'autore per certi versi affermato, però effettivamente era un libro che lui aveva scritto in una condizione assolutamente working class, anzi, unemployment, nel senso che Edemic nel momento in cui esce Dynamite per la prima volta nel 1931, è ormai disoccupato da due anni, ha abbandonato il lavoro di sua volontà e nella convinzione di diventare uno scrittore, gli dirà bene alla fine, però non era scontato quel passaggio, anche perché abbandona il lavoro pochi mesi prima del grande crollo di Wall Street nel 1929, per cui si ritrova ad aver fatto la scelta di scommettere su se stesso e sulla sua possibilità di diventare uno scrittore nel momento peggiore in cui poteva farla. Appunto, come dicevo, gli dirà bene, però il percorso è faticoso, ed è faticoso proprio anche nella forma. Lui parte dall'idea di scrivere una storia, una cronaca, per essere chiari subito, Dynamite quando esce viene presentato come un saggio, non fiction, viene presentato come un saggio che racconta degli episodi della violenza, che riguardano la violenza nello scontro di classe negli Stati Uniti. Da quel punto di vista è estremamente puntuale, perché nel 1931 la situazione di disoccupazione negli Stati Uniti è a livelli stellari, c'è una marea di gente che sta per strada, che fa letteralmente la fame. Gli Stati Uniti di quell'epoca sono in una situazione in cui praticamente tutta la grande massa di lavoro migrante, che soprattutto nei tre decenni precedenti, nei tre, quattro decenni precedenti, dall'ultimo decennio del 1800 in poi, c'è una massa di milioni e milioni di immigrati che sono arrivati per lo più come a Edemic dall'est Europa o dal sud Europa. È l'ultima grandissima migrazione verso gli Stati Uniti, a cui poi ovviamente ne seguiranno altre, però è l'ultima grande migrazione libera prima che ci siano restrizioni all'immigrazione negli Stati Uniti. Con la crisi del 1929 tutto questo va in crisi, Dynamite esce nel 1931 in un momento in cui ci si aspetta una grossissima conflittualità ed effettivamente c'è una certa conflittualità sociale nel paese, anche se in quel momento non è ancora evidente. Per certi versi chi scrive Dynamite, Louis Edemic, un po' si rammarica che non ci sia questa conflittualità, perché nei pochi anni, e qui devo dire chi è Louis Edemic a quel punto, Louis Edemic nel 1931 è appunto un disoccupato che ha scelto di diventare disoccupato per tentare di diventare scrittore, da alcuni anni fa un po' il giornalista, scrive articoli su moltissimi giornali, su molte riviste, non riesce ancora a campare di questo, ma soprattutto lui si trova negli Stati Uniti da circa 15 anni, ha 30 anni, è immigrato quando appunto aveva 15 anni dalla Slovenia, che all'epoca stava nell'impero austro-ungarico, ed è completamente autodidatta, cioè lui scrive un libro, Dynamite appunto, in una lingua che non è la sua, che impara da solo, di cui legge la letteratura da solo, si forma da solo praticamente il patrimonio di cui ha bisogno per scrivere quel libro. Da questo punto di vista, rispetto alla definizione di working class literature che ci dava Alberto prima, Edemic è assolutamente una figura emblematica, nel senso che è uno che ha fatto la gavetta, è uno che è arrivato negli Stati Uniti, ha fatto mille lavori diversi, mille lavori soprattutto precari, anche perché è uno che parte per gli Stati Uniti, almeno come lui la racconterà, con lo spirito veramente del ragazzino quindicenne che va all'avventura ed è disposto più o meno a fare la vita anche la più dura, però per vivere appunto la sua avventura migratoria. E' per certi versi una storia di successo, è una storia di successo che finisce a buon fine. Come definiamo però dal punto di vista dei generi Dynamite allora a questo punto? Sicuramente, prima Alberto giustamente notava che definiamo la letteratura working class a partire dal posizionamento dell'autore, non parliamo di un genere, ma se vogliamo classificare Dynamite sicuramente non utilizzeremo quello che Valerio Evangelisti, che richiamiamo nell'introduzione a questo libro perché di Adamic e di Dynamite si era occupato, Valerio Evangelisti diceva che esiste un genere che si chiama genere letteratura e si riferiva a quel genere letterario, in realtà si riferiva a quel contesto che guarda dall'alto in basso i generi letterari appunto, che guarda dall'alto in basso la fantascienza, che guarda dall'alto in basso il noir eccetera e che considera che letteratura sia qualcosa che sta quasi nell'iperuraneo, che sta su un livello comunque qualitativamente più alto, di ricerca letteraria più alta eccetera. Ecco, io credo che Dynamite in un qualche modo sia sicuramente un antenato un po' preistorico, però di molte cose che prima citava Alberto e di tanti libri e di tante storie che comunque continuamente incontriamo nei nostri viaggi letterari, al di là del genere che gli viene appiccicato sopra. È appunto una questione di posizionamento, una questione di dove ti poni tu come scrittore e Luis Adamic a quel punto si poneva sicuramente nella posizione di colui che aveva vissuto molte delle vicende di cui avrebbe raccontato. Tra l'altro Dynamite è una scrittura molto particolare, devo dire che è leggibile, fruibilissima, non è particolarmente retorico, è come anche tu scrivi appunto nella prefazione, nell'introduzione, non è un libro che si lascia edito a faccia di la geografia, non narra, come dire, del proletariato come una classe sente da controversi, da dubbi, da conflitti interni, parla anche in maniera molto polemica della storia di alcuni sindacati, del ranking dei sindacati negli Stati Uniti, e ciò appunto lo rende un libro di per sé, ecco, non semplicemente a geografico di una classe operaia che alla fine non è tutt'oro quel che luccica appunto. Assolutamente no, avevo dimenticato di rispondere alla tua domanda principale, perché le due collane? L'editore Allegre pubblica sia la collana Quinto Tipo sia la collana Working Class diretta da Alberto Prunetti, Quinto Tipo è diretta da Vuming Uno, è una collana che esiste ormai da diversi anni, adesso potrei sbagliare, credo cinque. In Quinto Tipo era uscito un mio libro precedente, invece non era una traduzione ma era un mio libro che si chiama Una cosa oscura senza pregio, Louis Sadamik era uno dei protagonisti di questo libro perché appunto mi è capitato di avere accesso ad archivi storici sulla sua figura, su cui ho studiato per diversi anni, e a un certo punto era uscita questa storia che intrecciava la sua vicenda con le vicende della resistenza antifascista sul confine nord orientale italiano, cioè dai posti da cui provengo io, Trieste, la zona del Carso, la Slovenia attuale, l'Istria e via dicendo. Nel momento in cui Vuming in particolare e Giulio Calella di Allegre pensano che sarebbe il caso comunque di rendere disponibile al pubblico italiano un libro di Adamik e propongono di fare una traduzione di Dynamite, ci rendiamo conto e loro soprattutto si rendono conto che in realtà è una grande storia working class e visto che vogliamo molto bene alla collana di Alberto, alla collana working class, gli abbiamo proposto, gli è stata fatta la proposta di dire ma perché non immaginiamo un libro che esca in entrambe le collane, che è un oggetto assolutamente raro, è una cosa che crediamo che forse non sia mai successa almeno nel panorama editoriale italiano, però è stata assolutamente proficua, questo lo voglio dire da traduttore e da curatore, perché ci ha dato la possibilità di lavorare collettivamente sul libro, al di là del fatto che ci fosse una persona, cioè il sottoscritto delegata in particolare alla traduzione alla cura, il fatto di lavorare anche con due direttori di collana, l'editore, il vice direttore Pietro De Vivo, vice direttore della collana Quinto Tipo, ha permesso di far sì che in questo libro individuassimo tutta una serie di questioni che diventano anche di particolare attualità, credo che ci arriveremo dopo a discuterle, però intanto volevo spiegare questo aspetto.